Ragazzi come al solito faccio questa intro per i like, vi chiedo 450 likes, lo scorso video è andato molto bene come votazioni quindi spero che anche questo vada come quello di prima. Io vi ringrazio sempre di tutto il vostro supporto e buona visione! Salve a tutti ragazzi, qui è Brad che vi parla, oggi come vedete sono tornato con un nuovo video, siamo su Ghost e volevo subito ringraziarvi per tutti i like che avete lasciato nello scorso video, non siamo arrivati a 700 però abbiamo fatto un casino, più che altro che il video era partito da Dior a più di 410 like, tipo entro la mezzanotte in 4 ore e poi si è bloccato completamente, cioè praticamente si è bloccato perché poi alla fine il giorno dopo ha fatto soltanto, cioè oggi ha fatto soltanto 100 like, soltanto, non siamo arrivati ai 700 però comunque c'è ancora tempo per arrivarci, voi se non l'avete visto è andato a vedere perché comunque il video è abbastanza bello, fa abbastanza ridere, oggi giocheremo un po' di Ghost, facciamo qualche clip forse, sempre se non mi mette nella lobby che ho trovato prima in cui tutti gli avversari camperavano tutti nella zona di lancio con il Vepra e io come un coglione correvo, cercavo di distruggere ma i miei compagni stavano fermi a farsi le pippe tra di loro, farsi i bocchini alla vicenda, quindi adesso cercheremo di fare qualche clip, se ci va male sapete già come va a finire finita la zona di lancio ormai due torrette che si guardano, chi sono quei due geni che hanno messo una torretta di fronte all'altra? di sicuro non questo perché questo l'ho connessionato, non è assolutamente un genio, è un figlio di puttana con la madre troia con tutto il posto dove poteva cadere la cassa mi è caduta proprio dove stavo per sparare non ho capito un cazzo ma stiamo scherzando ma che connessione c'è? ma davvero? forse gli uomini della pre-storia avevano una connessione migliore guarda te, guarda te, guarda te, guarda te tutti i marker, tutti, dal primo all'ultimo cioè faccio una c'è l'elicottero? dalla cross the map mi ha tirato due bombe per abbattermi ma non lagga mai, non lagga mai questo gioco cancro perché sono sempre nel team dove la gente non sa prendere, non sa entrare in una zona e stare fermo in un angolo perché? non l'ho preso, non l'ho preso giubbottino cancro via la resistenza alle madone bastarde morte mettiamo di okane incognito cancrone morto, mortone, mortaccione di okane almeno nella zona di lancio se c'è il fumello buono, quello da fumare io non posso essere visto e me lo fumo tutto va bene? ok, perché ormai si deve giocare così a questo gioco di merda chest opening, spolliciate vediamo torre delle bombe ah, 8 minion, wow questo è il cancro proviamo lo starter speriamo che vada bene una volta perché se non succede mai che si mettono in fila perché sono tardi e ritardati porco dio l'ho chiamata, l'ho chiamata e ha laggato tutto l'ho chiamata e ha laggato tutto quanto lagga quanto lagga sta partita? a che gli avete dato l'host? a un armeno gay? eh? dax? cancrone quality split 5 on split non mi ha dato collatera però 5 on e via tutto è un genio questo è un genio cioè perché non ci siamo arrivati prima a nasconderci dietro il camioncino per fare le feed così dio cane accoltellata nella faccia diretta cross the map teore dovrebbero spawnare tutti qua vedo già un membro della squadra il che mi rende una persona estremamente felice questa era clip eh questa era clip il problema è che devi dare meet marker e headshot senza motivo a caso totalmente non è collatera ma cosa? non ha coltellato oh mio dio ragazzi esplodo giuro giuro esplodo va bene dai spero che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio sempre di tutti i like di tutti i commenti ricordatevi i like su questo video passatevi a vedere lo specchio of streak shotting oppure un altro video che ho caricato la settimana scorsa spero anzi penso di fare un vratto su questa settimana e magari pure un video su mv2 adesso vedo come fare con i tempi perché comunque sono abbastanza attirato però dovrei farcela un saluto un ringraziamento e alla prossima bella ciao